Moleskine è un notissimo produttore di taccuini, agenti e strumenti per la scrittura. Questa è la mia agenda Moleskine, effettivamente la qualità è molto elevata, ce l'ho da più di 10 anni. Qui ci metto i miei appunti personali, ma a parte questo aspetto, questa azienda, la Moleskine, negli ultimi anni è cresciuta ancora in maniera veramente rilevante, grazie a cosa? Allo sviluppo di libri ancillari rispetto alla produzione delle agenti di questi taccuini, dove con questi libri una persona che li usa impara a disegnare meglio, a scrivere e a interagire direttamente con la carta e con la penna. Con titoli come Moleskine Art Collection e altri dedicati a tecniche specifiche di schizzo e scrittura, Moleskine non solo vende prodotti, ma promuove un intero stile di vita incentrato sulla creatività e l'organizzazione personale, che si basa poi sul principio di trasferimento dell'energia che viene dal cervello sino alla mano, c'è un scarico a terra di quelli che sono i pensieri all'interno dei taccuini e delle agenti. Detto questo, quali sono i punti chiave di questo meraviglioso book funnel di Moleskine? Primo, valorizzazione del prodotto. I libri enfatizzano l'importanza e il valore del fare appunti e schizzi manualmente, rinforzando così la necessità dei prodotti Moleskine. Secondo punto, posizionamento di, come si sol dire, lifestyle. I libri aiutano a posizionare Moleskine come un marchio lifestyle essenziale per creativi e professionisti. Se anche tu hai un'azienda che produce degli oggetti fisici generici e questi oggetti hanno la necessità di essere rappresentati meglio, di essere veicolati da un punto di vista comunicativo in modo più intimo ed empatico, la realizzazione di un libro strategico ti permetterà di sviluppare un marketing semplice ed efficace per la tua azienda. In particolar modo, sviluppando il libro con Bookness non avrai alcun vincolo. Che significa questo? Significa che quell'asset che ti creerai una volta per tutte per la tua azienda da quel momento in avanti non avrà costi di manutenzione, costi di gestione, vincoli derivanti dai diritti dell'opera. Per avere maggiori dettagli su questi aspetti che sono abbastanza tecnici per il mondo dell'editoria ti consiglio di contattarci qui sotto e riceverai senza costi per te le risposte a tutte le tue domande.